Donald Trump lancia l'ultimatum all'Europa. Se Bruxelles non abolirà i dazi commerciali che danneggiano aziende e lavoratori statunitensi, Washington è pronta a mettere in campo dazi del 20% sulle auto costruite nel vecchio continente. Se la guerra commerciale si sposterà sul settore automobilistico, le conseguenze saranno pesanti, soprattutto per la Germania, che verrebbe colpita nel suo export verso gli USA, mezzo milione di veicoli all'anno, e anche sull'export dagli USA verso la Cina, che vale 800.000 veicoli all'anno e che potrebbe entrare nel mirino delle ritorsioni di Pechino. L'annuncio di Trump arriva il giorno stesso dell'entrata in vigore delle contromisure europee sui prodotti made in USA, dai jeans alle motociclette ai superalcolici.